Come in tante città d'Italia, anche a Foggia, decine di persone sono scese in piazza per la marcia della pace il 12 marzo. Associazioni, sindacati, gruppi, sindaci, rappresentanti politici e liberi cittadini hanno marciato da piazza Giordano a piazza Battisti per chiedere il ritiro delle truppe, la deposizione delle armi e per dire no alla scelta dell'Italia e dell'Europa di fornire armamenti per il conflitto, optando piuttosto per una mediazione politica affinché si fermi l'azione d'attacco della Russia a danno dei civili. La marcia si è fermata dinanzi al Teatro Giordano dove sono intervenuti tra gli altri padre Oleg, che è assistente spirituale della comunità dell'Ucraina in Puglia, e Monsignor Vincenzo Pelvi, arcivescovo di Foggia Bovino, che ha dichiarato la guerra è una sconfitta di fronte alle forze del male, senza pace non si vive, chi fa la guerra si affida alla logica diabolica e perversa delle armi. All'elenco dei vari paesi che sono in guerra si aggiunge anche l'Ucraina, davvero la storia non insegna niente, ha detto Monsignor Pelvi, la guerra è una pazzia, fermiamo questa crudeltà, vogliamo che gli organismi internazionali di pace siano più forti, il cuore della Capitanata batte per la pace. Nell'ambito della marcia c'è stato anche un flash mob in cui si chiedeva a Zelensky e Putin di fare un passo indietro affinché il popolo ucraino sia liberato dal conflitto. Lo scorso 10 marzo, presso la Proloco di Lucera, invitati dal presidente dottor Nicola Ciccarelli, si sono riunite alcune associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale con l'intento di costituire un comitato di coordinamento che si occuperà nella prima accoglienza ai rifugiati ucraini in fuga dal conflitto in atto. All'incontro hanno partecipato le associazioni Proloco, CIF, Diversabili, Ginnastica Luceria, Lions Club, Rotary Club, Lavori in Corso, Maria De Peppo Serena, Pule Arte, Turismo e Cultura, Missione San Francesco Antonio Fassani, Altro Mio Figlio, Centro Sportivo Casanova, Gavi, gli aspetti legislativi, organizzativi e di procedure amministrative sono state illustrate dal dottor Antonio Fusco. Tutte le associazioni hanno aderito all'iniziativa. L'assessore Antonietta De Sabato, presente in rappresentanza del comune di Lucera, al termine dei lavori, ha annunciato che il prossimo 15 marzo, presso la sede della biblioteca comunale, sita nell'ex Convento San Pasquale, alle 19 il sindaco Pitta incontrerà i rappresentanti del comitato di coordinamento che sarà integrato con tutte le altre associazioni che le faranno richiesta per organizzare il da farsi. Le associazioni del terzo settore e la cittadinanza tutta sono invitate per programmare un progetto umanitario di accoglienza. Il mercato mondiale delle macchine agricole è in crescita in tutti i principali paesi, particolarmente brillante nel vecchio continente, la performance dei mercati dell'area mediterranea, dove affare da traino l'Italia, che con un sostanzioso più 36% è ai massimi da 2010. I dati relative ai paesi mediterranei forniti dall'ufficio studi di Federuna Coma, la Federazione Nazionale dei Costruttori delle Macchine per Agricoltura, sono stati presentati dal direttore generale Simona Rapastella nella cornice di Enoli Expo, la manifestazione dedicata al mondo dell'olivicoltura e della vitivinicoltura alla Fiera del Levante di Bari, performance interessanti anche nel Tacco d'Italia. I contributi e benefici fiscali per i produttori alivicoli e vitivinicoli nell'ambito della nuova PAC del PNRR e della Transizione 4.0 sono stati oggetto di un convegno organizzato a Enoli Expo in collaborazione con Federuna Coma, partner della Rassegna Nazionale, a partire dalle innovazioni tecnologiche. Il mondo delle macchine agricole tornerà protagonista nella 45esima edizione di Eima International in programma a Bologna dal 9 al 13 novembre prossimi. Dopo tre anni dall'ultima edizione siamo riusciti ad organizzare Enoli Expo che rappresenta per la Puglia ma anche a livello nazionale l'unica fiera di tecnologie per la produzione di olio. Quindi in questa fiera abbiamo tutti i maggiori esponenti di produttori di macchine di produttori di macchine per la tecnologia olearia. Ovviamente è un appuntamento molto difficile, è stato molto difficile in questo periodo poterlo realizzare, ma i risultati ci stanno dando ragione. C'è moltissima credibilità e soprattutto i nostri visitatori hanno molta fiducia per un settore non solo oleario ma anche vinicolo che ovviamente rappresenta i due settori trainati dell'agroalimentare. Non solo abbiamo tutto l'interesse a ripartire, a ripartire con coscienza, con il tema dell'olio applicandone tutte le sue articolazioni del mondo scientifico per quello che ci ha dimostrato, non solo in termini di macchine che mettano in evidenza le proprietà dell'olio ma anche con il settore farmaceutico perché la nutraceutica ci sta dando nuovi spazi e nuovi ambiti sui quali lavorare, intervenire ma anche campi d'azione in termini di economia aggiunta al valore olio. La diffusione del batterio sembra essere ancora e si trova in questo momento in una fase di apparente stasi precaria, però apparente perché in realtà poi le analisi dei risultati del monitoraggio ci dicono che comunque la diffusione del batterio continua, per esempio quest'anno nell'ultima stagione è stato registrato un focolaio abbastanza fastidioso, permettetemi l'espressione, ad albero bello, uno dei focolaio di Monopoli sembra ben lungi dall'essere spento per cui è una situazione che richiede di mantenere alto il livello di attenzione. Domenica 13 marzo in Puglia sono stati registrati 4.422 nuovi casi di Covid su 24.527 test, 2. le persone decedute. In provincia di Foggia sono stati 488 i nuovi casi registrati. A Lucera, secondo i dati diffusi nella giornata di sabato 12 marzo, sono ancora più di 200 i cittadini contagiati dal virus. Sale il numero delle persone attualmente positive al Covid in Puglia, che attualmente è di 80.152 persone. Per la ventiduesima giornata del campionato di promozione girone A, Lucera è stato sconfitto in casa dal Foggia in Cedit per 0-1. La formazione bianco celeste ha perso in settimana vari giocatori dopo l'esonero di Fabrizio Di Flumeri. Al suo posto in panchina è sceso Matteo Diurno, già impegnato con l'Under-19. Nonostante le difficoltà, la squadra di Lucera ha cercato di tener testa l'Incedit, che è passato in vantaggio solo nel secondo tempo, grazie ad un gol firmato da Salvatore Ferrantino, il quale a inizio stagione faceva parte proprio della rosa bianco celeste. L'Incedit resta quinto a 44 punti, allungando però il distacco con il Lucera che si fa di nove lunghezze.